Buongiorno a tutti signori e signori, sono Ronny Raponi e Wolvericci. Un collegamento esclusivo, mondiale, interplanetario, unico al mondo. Molto probabilmente è benessi quella casa del grande a uccello. Top! Ed ora si andranno a collegare in quel di Vallamia Ancona con quello che viene da quel di Vallamia Ancona, ovvero di chi si hanno rotto l'ora di pranzo, manca se il pigiama, perché andrà a dormire molto presto. Sentiamo lui. Oh beh, capito, c'ho la manià, la tagliatela, oh porca maschina, questo è spettacolo. La tagliatela raghi, è buona un bel po', la tagliatela della casa del grande uccello, spettacolo. Puro. Welly. Puro. Puro. Puro.